Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video tutorial Allora quest'oggi vedremo come inserire e anche come sincronizzare della musica Anzi no, con sincronizzazione ve la farò vedere nel nuovo video Però vi farò vedere come inserire e convertire della musica su iTunes Perché ho un ipod e voglio usarlo Quindi guardiamo come farlo Allora andiamo sul desktop Apriamo iTunes Ok, adesso premiamo il menu file Ok, prima tasto l'applicazione di sinistra Andiamo nel menu file E scegliamo aggiungi cartella in questo caso Voi potete aggiungere anche dei file mai oltre ad aggiungere delle cartelle Aggiungi cartella in un'idea Aggiungi cartella in un'idea Bene Adesso Aggiungi cartella Aggiungi cartella in un'idea Aggiungi all'idea Aggiungi cartella in un'idea Aggiungi cartella in un'idea Aggiungi cartella in un'idea N beat Aggiungi cartella in un'idea Inak C Account Subtitut Tutti Aggiungi cartella in un'idea urtro e poi ci vedremo nel prossimo video che sarà su come circolizzare le frutte ciao a tutti o anzi, come circolizzare la musica sulle frutte ciao grazie